Se soffri di artrosi di ginocchio questo è il video che fa per te perché oggi scoprirai quali sono i sei sintomi principali per capire se soffri effettivamente di questa patologia e se guarderai tutto il video alla fine ti svelerò anche una caratteristica dell'artrosi che sicuramente ti potrà interessare. Non perdiamo il tuo tempo, sigla! Benvenuto, bentornato, bentornata. Oggi parliamo di artrosi di ginocchio e quali sono i sei segni clinici più importanti per diagnosticare l'artrosi di ginocchio. La prima cosa che devi tenere presente è che perché ci sia una validità ossia una discreta sicurezza che effettivamente si tratti di artrosi di ginocchio devono essere presenti più sintomi contemporaneamente almeno dai quattro in su. Questo perché porta la significatività e la sensibilità di questa batteria di sintomi superiore all'ottanta per cento. Quindi diciamo che se sono presenti quattro di sei sintomi che adesso ti elencherò hai una probabilità di circa l'ottanta per cento che effettivamente sia artrosi di ginocchio. Bene sintomo numero uno un'età superiore ai 50 anni. Questo perché l'artrosi di ginocchio è una patologia che è correlata all'età aumenta con l'aumentare dell'età con un picco che oscilla intorno ai 75-78 anni. Ma diciamo che la probabilità che una persona soffra di artrosi va dai 50 anni circa fino agli 80. Se hai meno di 50 anni è comunque possibile che tu soffra di artrosi ma è piuttosto improbabile a meno che non sia un'artrosi derivata da un trauma precedente al ginocchio ad esempio una frattura del piatto tibiale di cui te ne ho già parlato. Il secondo segno clinico è una rigidità mattutina che non supera i 30 minuti. Che cosa significa? Spesso e volentieri i pazienti si svegliano la mattina con un ginocchio rigido che fa fatica a muoversi, che fa male a muoversi e dopo un po' quando cominciano a camminare, cominciano a fare qualche magari esercizio, mettono in moto diciamo la macchina, a distanza di 30 minuti o anche meno il dolore comincia a ridursi o addirittura si silenzia completamente. Questo perché è fondamentale? Perché una rigidità mattutina che non supera i 30 minuti è caratteristica dell'artrosi. Quando questa rigidità supera i 30 minuti e arriva a essere di un'ora, due ore, addirittura accompagna il paziente tutto il giorno bisogna fare attenzione perché una delle diagnosi differenziali più importante è quella con l'artrite reumatoide. Ho fatto un video in cui spiego le differenze principali tra l'artrite e l'artrosi che ti invito ad andare a vedere per approfondire questo argomento. Il terzo segno fondamentale sono i rumori di ginocchio. Attenzione ho fatto due video al riguardo sui rumori di ginocchio. Bisogna differenziare quelli che sono rumori fisiologici da quelli che sono rumori patologici. I rumori fisiologici sono presenti anche nei giovani e sono rumori prettamente derivati dal liquido sinoviale, dallo scoppio di bolle d'aria all'interno del liquido sinoviale e sono totalmente fisiologici. I rumori invece da artrosi sono rumori di tipo meccanico che spesso accompagna tutto l'arco di movimento del paziente. Quindi in genere si fa abbassare, il paziente si fa fare uno squat al paziente e si osserva, si sente se questo squat produce dei rumori. Rumore che in genere è costante durante tutto l'arco di flesso estensione. Questo rumore dettato dall'artrosi dà un attrito meccanico della cartilagine. Ebbene questo è un rumore patologico ed è un segno caratteristico dell'artrosi di ginocchio. Il quarto sintomo è una dolorabilità lungo la linea articolare femorotibiale, quindi un dolore palpatorio lungo la rima dell'articolazione tra il femore e la tibia. Spesso e volentieri questo dolore si localizza un pochino più in basso dell'arima articolare. Questo perché? Perché come ti avevo già detto in un altro video dal titolo perché l'artrosi fa male, la cartilagine sostanzialmente non è innervata e quindi non può fare male. Ma l'osso che sta sotto la cartilagine, chiamato osseo subcondrale, questo sì che è innervato e questo può fare male soprattutto quando c'è un edema osseo che stira la guaina che riveste l'osso, il periostio e questo edema osseo quando viene schiacciato da chi fa una visita ortopedica può produrre dolore. Quindi il quarto sintomo è una dolorabilità appena più sotto della rima articolare tibiale. Il quinto segno è la formazione di osso aggiuntivo. Che cosa significa? Alcune volte i pazienti si accorgono di avere qualcosa che non va perché nel ginocchio si formano delle protuberanze con il passare del tempo che prima non c'erano. Che cosa sono queste protuberanze? Spesso e volentieri sono degli osteofiti. Che cosa sono gli osteofiti? Gli osteofiti sono dell'osso che si è venuto a formare successivamente proprio per l'eccessivo carico, per un carico patologico, per una meccanica patologica del ginocchio. Il ginocchio si difende cercando di produrre più osso per cercare di sostenere il carico. Questo osso aggiuntivo spesso si forma in luoghi dove non dovrebbe formarsi e forma questi cosiddetti osteofiti che quando vengono visti in radiografia sono un segno caratteristico di diagnosi di artrosi di ginocchio. Bene, quindi se guardando il ginocchio ad occhio nudo vedi la comparsa che sono comparsi nel tempo delle protuberanze è possibile ed è probabile che siano degli osteofiti che sono un segno caratteristico di artrosi di ginocchio. Il sesto ed ultimo punto è la temperatura. Perché parliamo di temperatura? Perché è fondamentale differenziare come abbiamo detto prima l'artrosi dall'artrite qualsiasi essa sia, quindi aromatoide o altri tipi di artrite. Nell'artrosi la temperatura è sostanzialmente negativa. Che cosa vuol dire una temperatura negativa? Che non ci deve essere differenza di temperatura tra il ginocchio e il resto dell'arto inferiore e soprattutto tra un ginocchio e l'altro. Bene, se la temperatura è la stessa e quindi il ginocchio non è arrossato, non è caldo, è più probabile che effettivamente quello di cui stiamo parlando è artrosi e non artrite. Ti ricordo che ho fatto un video in cui parlo sia dell'artrosi che dell'artrite che ti invito ad andare a vedere per approfondire di più. Bene, questi erano i segni e i sintomi principali dell'artrosi di ginocchio. Ti ricordo che devono essere presenti in più di uno, non basta uno per fare diagnosi di artrosi di ginocchio, ne servono almeno quattro e una volta che sono presenti quattro di questi segni la probabilità che si tratti effettivamente di artrosi di ginocchio supera l'80%. Attenzione, il dato rilevante è che ci sono già ormai diversi studi in letteratura che dimostrano come non esista una correlazione tra il quadro clinico e il quadro radiografico e questo può essere interpretato come una buona notizia. Questo perché nonostante ci siano pazienti che hanno una radiografia magari anche molto brutta di artrosi di ginocchio, clinicamente magari stanno abbastanza bene, relativamente bene e riescono a fare le loro cose. Viceversa ci sono pazienti con un quadro radiografico sostanzialmente negativo per artrosi di ginocchio che hanno invece dei sintomi molto importanti. Questo vuol dire che l'artrosi di ginocchio si può effettivamente trattare in modo conservativo, quindi senza l'intervento chirurgico, attraverso tutta una serie di metodiche di un percorso terapeutico che deve essere fatto ovviamente su misura per te. Bene, siamo arrivati quasi alla fine di questo video perché quello che voglio dirti è che ho fatto altri video sull'artrosi di ginocchio che puoi trovare nella playlist dedicata proprio qui su YouTube e se ti interessa approfondire ulteriormente il tema vai sul mio sito www.francescopoggioli.it per leggerti tutti gli articoli che ho scritto al riguardo. Se questo video ti è piaciuto come sempre un like, iscriviti al mio canale per rimanere sempre aggiornato perché i miei video vengono pubblicati da adesso in poi a giorni e orari differenti, quindi per rimanere sempre aggiornato iscriviti e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Io ti saluto, ciao!